Se volete aiutare il vostro bambino a pronunciare la M di mamma, ecco tre cose che potete fare. 1. Mettete la manina del vostro bambino sulla vostra bocca, mentre dite M, mamma. Questo lo aiuta a sentire la componente vibratoria del suono M. 2. Mettete le vostre dita sulla bocca del bambino e fate una leggera pressione, mentre modellate la parola con la M, mamma, mano. Questo aiuta il bambino a sentire quella pressione che le labbra fanno tutte le volte che si chiudono per pronunciare la bilabiale M. 3. Fatelo soffiare con un fiato o un fischietto che sia molto molto piatto. Subito dopo aver soffiato provate a dire M. Attenzione però, quando parliamo di stimolare il linguaggio di bimbi autistici ci sono tante componenti molto complesse. Per questo per approfondire andate a leggere la descrizione del video.